E' un senza tetto romeno di 69 anni la prima vittima della giornata d'apice di questa ondata di calore. L'uomo che soffriva di cardiopatia è espirato in un'aiuola della stazione centrale di Milano dove si era rifugiato in cerca di refrigerio. Altri tre decessi si sarebbero verificati nelle spiagge del sud della Francia, dove nelle città più calde come a Parigi sono state allestite vere e proprie stanze del refrigerio per gli anziani e le categorie più a rischio. Ci rivolgiamo alle persone più vulnerabili e isolate, spiega il sindaco del quarto arrondissement. Abbiamo per il caldo estremo un archivio di persone che stiamo chiamando, li conosciamo attraverso gli assistenti sociali e varie altre attività. Li chiamiamo, ci assicuriamo che stiano bene, che stiano al sicuro, cerchiamo di prenderci cura di loro e nei casi più estremi andiamo a prenderli e li portiamo nelle nostre stanze del refrigerio. A Praga, dove le temperature sono state tutto sommato contenute rispetto ad altre capitali europee, agli accaldati animali dello zoo è stato comunque offerto un sorbetto a base di ghiaccio e pezzi di frutta intera. Mentre la situazione è drammatica nella regione spagnola della Catalogna, dove un enorme incendio ha già devastato 4.000 ettari di terreno nella zona di Tarragona, a 80 chilometri da Barcellona.